Ciao, sono Patrizia Setteeducati, creatrice del metodo canalizzazione vibrazionale angelica e ho lo scopo di aiutare le persone a scoprire, intraprendere il cammino verso la propria missione di vita. Chi sono io per aiutarti in un compito così delicato? Sono una ricercatrice spirituale sin da quando ero bambina ed un channeler naturale, ossia sono in connessione con gli esseri di luce che guidano la mia vita e mi aiutano nel guidare le persone verso i propri risultati. Inoltre ho seguito corsi di formazione in tutto il mondo con i migliori formatori proprio perché mi aiutassero ad educare le mie doti innate. Ebbene, se senti di essere nato con un grande scopo nella tua vita, se senti di vivere al di sotto delle tue possibilità, se a volte ti capita di sentire un vuoto dentro di te, un vuoto che però ti fa sentire bloccato perché non sai cosa fare per andare oltre, per realizzarti e per dare un senso alla tua vita, bene, allora potresti essere un'anima di amante ed esserti incarnato con uno scopo di aiuto e contributo nei confronti dell'umanità. Bene, se vuoi intraprendere il tuo cammino verso la tua missione di vita e scoprire se anche tu potresti essere un'anima di amante, allora lascia la mail, la tua migliore email e scarica l'ebook. Ci sono alcuni esercizi che ti aiuteranno ad allinearti con la tua missione di vita. Ciao, a presto!